...ottenuto all'interno dell'azienda. Voi mi direte, vabbè, ma se io devo o un attacco di peronospora, parlo di vite, o un attacco di un insetto, di un lepidotto che attacca la mela, o... vabbè, non vuole entrare nel tecnico, di qualsiasi tipo di patogeno possa essere interessato, io come faccio a intervenire? È semplice la risposta, tu non devi intervenire, tu devi prevenire. Tu devi fare in modo che quell'attacco, che può essere di tipo funginio, può essere di tipo... da insetti, evidentemente tu lo devi prevenire. Attraverso che cosa? Attraverso l'adattamento innanzitutto di varietà e di specie che sono resistenti, quindi non devi portare nel tuo territorio, come dicevo prima, specie che non sono autoctone, che probabilmente per poter acquisire quella resistenza ne peserà di tempo e tu non produrrai mai nulla se vuoi fare biologico. Quindi devi ritornare alle vecchie varietà o specie del territorio. senatore Cappelli è una prerogativa, tant'è. Non so se voi avete mai sentito parlare del grano senatore Cappelli o del camut, forse il camut è più di moda. Allora, dovete sapere che il senatore Cappelli è un grano costituito in Puglia dal senatore Cappelli, nella zona di Foggia mi pare, che aveva e ha delle caratteristiche molto particolari, è molto alto, è molto rustico, è molto rinettante alle infestanti, che significa è più resistente, o meglio riesce a evitare che la germinazione delle infestanti possa superare la sua germinazione, cioè riesce a coprire le infestanti, al contrario degli altri grani, dove se ci sono le infestanti il grano non cresce. Ora ha una capacità radicale di non far germinare le infestanti e quindi il problema di infestanti non ce l'ha. È di una buona produzione resa ettaro, ho detto a poche esigenze nutrizionali, aveva solo un problema. Qual era il problema? Che era abbastanza alto. Quindi significa che se tu, come era la politica degli anni 60-70, avevi la necessità di produrre tanto, dovevi intervenire con l'input attraverso la concimazione. Azoto uguale petrolio. Chiaro? Nitrati. Tu apportavi nitrati, la pianta è una pianta vigorosa, molto alta, aumentava le sue dimensioni, quindi si alzava di statura e aveva un problema ovviamente, cioè quello dell'allettamento. Un primo colpo di vendo il senatore Cappelli allettava, cioè praticamente crollava, quindi non si poteva più trebbiare o metri trebbiare. Evidentemente questo ha portato la grande distribuzione, soprattutto i grandi costitutori di sementi, a metterlo da parte. Tant'è vero che il senatore Cappelli è stato tolto dall'elenco delle varietà riconosciute, cioè quelle che hanno l'accreditamento dell'ENSE. Tolte per 10-15 anni. Il senatore Cappelli è tornato alla grande. Cioè il senatore Cappelli lo stanno seminando tutti, tant'è che vedrete molto facilmente, attraverso la pasta o pane, troverete sempre pasta di senatore Cappelli, pasta proveniente da grano due senatore Cappelli. Prima, anzi tuttora, non troverete mai l'indicazione della varietà del grano, ma perché non la troverete mai? Perché i grani sono di varia natura, di varie origini, vengono da svariati paesi, quindi nessuno si immagierebbe di mettere la varietà. In questo caso mettere la varietà senatore Cappelli significa dare un plus, un plus, come si può dire, al prodotto. Ma perché ritornate in auge? Semplicemente per i motivi che dicevo prima, perché è una varietà che si adatta benissimo ai nostri ambienti, non ha bisogno di concimazione, non ha bisogno di diserbi, non abbiamo bisogno di farlo diventare altissimo, perché noi non dobbiamo produrre quantità, ma dobbiamo produrre qualità, quindi non c'è bisogno di ottenere i 60, i 70 quintali a etero, ce ne bastano 20 e 30, perché a quel prezzo 20-30 quintali a etero rendono come i 60, evidentemente si adatta bene alla nuova agricoltura, che è quella biologica e integrata. Questo è un esempio, ma ne posso fare tantissimi esempi. Quindi tutte le nuove aziende che si stanno costituendo, prevalentemente fatte da giovani, hanno, e io lo so perché mi chiamano spesso volentieri, vanno alla ricerca di varietà che molte volte si sono pure perse e quindi sono ritrovabili, diciamo, rintracciabili in piccole aziende che si sono mantenuti queste varietà, proprio conservate gelosamente, parlo di legumi, di vari prodotti, per poter vantarsi di ottenere dei prodotti che abbiano un'origine veramente territoriale. Ecco perché l'importanza di legare tutto al territorio. Se noi usassimo delle varietà non del territorio incontreremmo gli stessi problemi che hanno incontrato i nostri genitori, i nostri agricoltori negli anni 70-80, dove dovevano intervenire con concimazione nitrate uguale petrolio o con prodotti di sintesi. Questo è, diciamo, molto in sintesi l'aspetto agronomico, che probabilmente chi mi seguirà vi potrà dare altre, diciamo, altre delucidazioni. Io lo vedo dal punto di vista di chi deve controllare. Allora uno mi direbbe, vabbè, ma tu ispettore, come fai a capire se l'azienda ha seguito queste regole? Non è che vai a fare il controllo nel momento in cui semina, nel momento in cui fa la ratura, nel momento in cui fa l'irrigazione. No, è vero. Noi basiamo il nostro controllo, basiamo su alcuni aspetti, alcune regole, le quali vengono, come si dice, valutate prima. In che senso? Nel momento in cui l'azienda decide di fare agricoltura biologica, è vero che può cominciare dall'oggi al domani, questo lo può fare tranquillamente, però prima di avere la cosiddetta idoneità a fare questa attività, deve dimostrare, e il regolamento comunitario è stato preciso e in questo caso ha sentenziato, deve spiegare prima quali sono i metodi che adotterà sulla base di quello che prevede il regolamento per poter ottenere un certo risultato. Quindi farà, noi diciamo, una specie di relazione tecnica, dichiarazione di intenti in cui dice, vabbè io devo coltivare olivo. Allora la normativa dice, come fai a mantenere la fertilità del terreno? E tu lo devi spiegare, chiaramente seguendo quello che è previsto dal regolamento, non vuoi dire che devo concimare, te lo scordi. Quindi devi avere le stesse regole, cadenze che vi ho detto che madre natura ci ha detto, cioè prima di trattare, prima di concimare, devi prevenire. E quindi devi dire, ok, devo usare delle varietà che siano autoctone, devo attuare una rotazione per evitare di usare diserbanti. E io ti dico, vabbè, ma se è un attacco funginio come fai? Allora, oltre alla prevenzione, se la prevenzione non funziona, allora devo fare un monitoraggio. Che significa? Prima di intervenire con un prodotto ammesso dall'agricoltura biologica, dalla normativa, prima di intervenire devo verificare se è necessario intervenire e lo devo registrare. Tutti questi aspetti, tutta questa cronologia, ripeto, finora è nel convenzionale, e tuttora nel convenzionale non è attuato. Quindi uno interviene quando vuole, senza nessuna regola, senza nessun rispetto, soprattutto suo, perché molte volte fa dei trattamenti anche contro la sua stessa attività di operatore, evidentemente contro l'ambiente e soprattutto non nel rispetto del consumatore. Ho un convegno fatto... Prego. Per esempio, quando viene fatta la valutazione dell'azienda sulla cosiddetta conversione, perché poi vi spiegherò, un'azienda diventa bio dopo due o tre anni, evidentemente nello suo studio e nella questa famosa relazione tecnica vengono considerati anche gli aspetti pedo-agro-climatici. Cioè, prima di dire io ok farò questo, tu devi conoscere il tuo territorio, quindi lo devi conoscere dal punto di vista pedologico, quindi il terreno, climatico e ambientale. chiaro. Quindi se il clima cambia, evidentemente non è che il clima cambia nel giro di uno, due, tre anni, avrà una sua evoluzione, ma in questa evoluzione le specie autoctone si adattano. Chi non si adatta è la specie non autoctona. chiaro. Molto più lentamente? No, le piante si adattano molto più, diciamo, molto più velocemente rispetto a noi. Perché? Tranne i periodi, diciamo, eventi traumatici, dico io, tipo questi che stiamo vivendo, grandinate, eccetera, quello che determina il cambiamento climatico, cioè i parametri che possono determinare dei problemi, sono legati quasi esclusivamente all'aumento o alla diminuzione della temperatura. Però l'aumento e la diminuzione della temperatura sono, diciamo, l'aumento di un grado della temperatura media non è che avviene in un anno, ma avviene in un periodo di anni che minimo deve andare sui 20-25 anni, ma non è quello che ti determina l'adattamento. Il problema è l'evento traumatico, contingente, l'angrandinata, l'acquazzone, che magari prima erano meno presenti, ma non è legato più a un fatto ambientale, non di adattabilità della pianta all'attacco funginio o dell'insetto. Invece la cosa più interessante, forse, è legare l'evoluzione della, diciamo, la presenza di insetti o di patogeni che magari sono entrati in maniera, diciamo, non corretta. Mi spiego meglio. Finché l'azienda è autarchica o il Paese era autarchico e non c'erano trasporti, non c'era scambio di merci, di materiale, di vegetazione da un Paese all'altro, quindi erano molto esigui questi scambi, c'era meno possibilità che alcuni insetti si potessero insiedere nel nostro territorio. E tutto parte dal presupposto che dicevo io che la pianta e le sue malattie siano, diciamo, presenti in un sistema ecosostenibile, che significa che finché un insetto è conosciuto, o meglio, è conosciuto dalla pianta, è conosciuto anche il suo predatore. Quindi la presenza del predatore limita la presenza dell'insetto. Se tu fai fuori il predatore, come abbiamo fatto negli ultimi 40 anni, evidentemente l'insetto ha la possibilità di insediarsi come vuole. Se l'insetto viene da fuori, come è il caso delle palme, è chiaro che finché il predatore non si instaura e il predatore non riesce ad avere la prevalenza dell'insetto, avremo dei grossi problemi. Ma questo è un aspetto che riguarda anche il controllo alle entrate. mi spiego meglio. Voi avete mai provato a portare del prodotto o delle sostanze di origine vegetale negli Stati Uniti? Non vi fanno entrare. Non vi fanno entrare. Chiaro. Perché? Il prodotto deve stare in quarantena. In Italia, in Europa, questo non funziona. Quindi questo è un grosso rischio. Però io dico, se l'ambiente è diversificato, diversificato nel senso che ha, come si dice, parliamo di strutture, capacità di adattarsi, evidentemente troverà la possibilità di limitare il danno. Se invece il nostro ambiente è, quello che avevamo poco tempo fa, una distesa di terreno dove c'è solo terreno, dove gli stradini sono arati, molte volte anche asfaltati. I stradini sono le strade che limitano il terreno. Non c'è un albero, non c'è un muretto a secco, non c'è un laghetto artificiale, non c'è nulla. Evidentemente il famoso concetto di ecosostenibilità decade, perché ovviamente chi si insedia in quel tipo di ambiente troverà la panacea, cioè non troverà nessun controllore. Chiaro. Nessun predatore. La politica comunitaria, ma anche, che è la prerogativa del biologico, ora prevede e obbligherà le aziende a creare biodiversità, cioè creare le cosiddette di aree di compensazione ecologica, che ripeto è una rivoluzione. La comunità sta obbligando le aziende a crearsi quelle aree di compensazione ecologica. Che significa compensazione ecologica? Significa sia creare un ambiente vivibile non solo per il consumatore, ma anche per l'operatore, ma quel ambiente vivibile, cioè la presenza di muretta secco, siepi, alberi autoctoni, rovi, inerbimento degli stradini, sono tutte possibilità affinché tutti i predatori di questi famosi patogeni possano riprodursi e contenere l'attacco del patogeno. Quindi questa è la funzione. Quindi quel discorso che vi dicevo prima, prima che un'azienda possa entrare nel biologico deve dimostrare che lo possa fare. Quindi evidentemente deve mettere in atto tutta una tecnica agronomica e strutturare dell'azienda, proprio l'azienda strutturalmente viene cambiata affinché possa dare la possibilità di raggiungere l'obiettivo. Tant'è, come vi dicevo, per poter certificare una produzione bio l'azienda deve avere due anni di conversione se sono colture annuali o tre anni di conversione se sono colture albore. Significa che questi tre anni tu non puoi vendere bio, devi applicare le tecniche di creatura biologica e vedere al terzo anno se ci sei riuscito, perché se non ci sei riuscito lo devi abbandonare il metodo, non perché ti obbligo io, ma perché non sarà remunerativo, non produrrei nulla. Quindi il percorso è molto accidentato, però è ovvio che gli ambienti che sono predisposti o predisponenti a questo tipo di agricoltura sono avvantaggiati. Quindi nel nostro territorio, la zona, parlavo con l'amico, la zona della prima murgia, parlo della selva di Fasano, la zona dei Trulli, la Validite, è la zona meglio indicata affinché si possa convertire tutto l'ambiente, ma non la singola azienda, tutto l'ambiente. Perché? Perché ovviamente ci sono tutte le condizioni strutturali, muretta secco, ambientali, siepi, sieponi, alberi autoctoni, varietà tipiche del territorio che si adattano benissimo a questo tipo di agricoltura. Se invece parliamo di zone, ahimè, da dove vengo io, Rutigliano, evidentemente che è una distesa di uva da tavola, una distesa di tendoni di plastica a effetto serra, diciamo così, evidentemente per raggiungere questo obiettivo è molto difficile, ma molto, molto difficile, perché tu devi cambiare proprio strutturalmente l'azienda, perché i muretta secchi sono secco, non so se li conosce, penso che li conoscete tutti, i muretta secchi sono stati macinati, gli stradini sono stati asfaltati, tutti i rovi, tutti gli arberi ornamentali, fragni, querce, sono stati tutti, rasi al suolo, evidentemente non c'è l'ambiente adatto affinché i predatori degli insetti nocivi possano svilupparsi e moltiplicarsi. Guarda caso, la comunità europea, per vari motivi, anche per un aspetto politico e anche economico, ha dato questo indirizzo, dice, non solo per la agricoltura biologica che ha rispetto pienamente già queste direttive, famoso greening, ma tutte le aziende lo devono fare, tanto è vero che per ciascuno azienda il 3-4% della superficie agricola utilizzabile, cioè quella dove si può seminare e piantare, non deve essere destinata a produzione, cioè deve essere destinata ad area compensativa ecologica, cioè deve essere destinata affinché si riproducono tutti questi fattori che possano limitare il danno agli insetti. Se fai biologico è un bene, puoi intervenire anche con mezzi ammessi dal regolamento. Se non fai biologico puoi utilizzare mezzi chimici però nei limiti previsti da disciplina di produzione. È chiaro che se tu ti trovi una situazione predisponente a questo, tu cautelativamente o in caso di esigenza farai un trattamento chimico, due, perché parte del problema l'hai risolto a monte. Se invece tu non lo risolvi a monte, non fai prevenzione, non fai monitoraggio, il trattamento chimico lo fai a calendario, ogni settimana io faccio il trattamento perché non so come mi va, è sbagliatissimo perché non c'è uno studio a monte. Detto questo, ovviamente il biologico, essendo una normativa, implica degli aspetti burocratici, ovviamente. Perché? Perché tutto questo non deve essere detto a voce o non deve essere una dichiarazione di intenti, ma deve essere messo per iscritto e quindi deve essere valutato da vari organi che in primis sono l'organismo di controllo e poi le autorità competenti, cioè coloro che vigilano anche l'organismo di controllo. Quindi evidentemente, script a manent, se non c'è scritto qualcosa è difficile effettuare dei controlli. Questo è per l'aspetto, diciamo, di ingresso, ma ovvio che tutto quello che viene fatto, utilizzato, venduto, anche questo deve essere tutto registrato. Questo serve sia per dare visibilità di quello che hai dichiarato, ma soprattutto per dare garanzia al consumatore di quella famosa tracciabilità. Quindi in teoria attraverso la certificazione, attraverso le registrazioni, il consumatore finale ha la possibilità di valutare e di essere certo che tutto il processo e tutta la filiera abbia rispettato le norme, che il consumatore in teoria dovrebbe già sapere. Ovviamente ci sono dei paletti, dei paletti che sono di tipo agronomico, ma anche dei paletti di tipo legislativo. Uno di questi è un paletto di opportunità, è quello del divieto delle produzioni parallele. Che significa? Significa che se è vero quello che abbiamo detto, che è concettualmente tutto un progetto, quindi pensate alla conversione dell'azienda come un vero e proprio progetto, come se si volesse costruire una casa, una strada, un qualsiasi coltello, di progettare questa cosa, devi essere in grado di renderla veritiera. Uno di questi aspetti è proprio il primo punto. L'intera azienda agricola è gestita in conformità con le requisibili applicate della produzione biologica. Che significa? Io non posso dire nella mia azienda faccio l'olivo biologico e la vite no. Faccio il grano biologico e gli ortaggi no. Non è possibile. Cioè l'azienda deve essere, teoricamente dovrebbe essere tutta convertita, teoricamente, concettualmente dico io. La normativa dice no, l'azienda potrebbe anche dividersi in comparti, è cosiddetta azienda mista. Però ti dice le culture parallele non sono ammesse. Che significa? Non puoi fare grano biologico e grano convenzionale, non puoi fare olivo biologico, olivo congenonale. Se fai olivo deve essere tutto biologico, se fai grano deve essere tutto biologico, se fai vite deve essere tutto biologico. Però potresti fare vite convenzionale e frumento biologico. Però questo è, da un punto di vista, diciamo, normativo è ammissibile. Dal punto di vista mio, di controllore e di controllore e di fautore biologico, la vedo una forzatura. Però, come si dice, dura l'ex e legge, la dobbiamo rispettare. Però, obiettivamente, è preferibile che l'azienda sia tutta convertita. A meno che, dico io, non sono due corpi completamente distinti, e ce ne sono di casi. Cioè io voglio fare olivo biologico e mi trovo sul Gargano, zona eccellente per fare olivo biologico, e il cereale non lo voglio fare biologico perché mi trovo in capitanata. Ed è giusto che tu non lo puoi fare in capitanata, per le condizioni che vi ho detto prima, perché finché non vai a regime è difficile che riesci a fare grano, così come può essere difficile fare uva da tavola biologica. Allora, un'azienda, dice il legislatore, ma perché deve essere penalizzata se vuole intraprendere questa strada, se è strutturalmente separata. Quindi una gestione completamente separata. Evidentemente non avrebbe un senso se l'azienda è accorpata. Non ha senso fare trattamenti a destra e biologica a sinistra. Se sono corpi separati, questo legislatore te lo permette. Ma dietro un preciso motivo, che è in quella famosa relazione tecnica tu devi dimostrare e motivare. E poi, un altro punto della normativa, la vecchia normativa diceva che io te lo concedo, però nell'arco di 3, 4, 5 anni devi essere in grado di convertire tutta l'azienda. Questo sarebbe l'ideale, però a questo punto l'hanno tolto, con l'ultimo regolamento. Per me sarebbe stato l'ideale. Diceva bene, io te lo concedo, però mi devi dare, con vari step, mi devi dimostrare che ti stai avvicinando a raggiungere quegli obiettivi. Da un certo punto di vista è logico, perché ripeto, se tu l'azienda la devi cambiare strutturalmente, cioè devi costituire i siepi, devi fare queste fasce tamponi, devi ergere, mettere a dimora piante che possono essere utili, non produttive, ci vuole tempo, è chiaro, non è che lo fai dall'oggi al domani. Quello potrebbe essere un obiettivo, però a ricordo di logica il regolamento lo prevede. Ciò che non prevede rispetto è che, ripeto, è la produzione parallela, cioè se fai grane o bio devi fare bio, non puoi fare bio e convenzionale. Questo perché? Perché anche dal punto di vista documentale, e ora riguarda il nostro operato, è difficile andare a controllare nel momento in cui tu vai a vendere il prodotto, se quel grano, se quelle olive provengono dall'azienda bio o dall'azienda convenzionale. Diventa impossibile, praticamente impossibile andare a controllare, anche perché alcune varietà di grano, tutte varietà di grano, sfido se qualcuno è capace a controllare sotto la metritrebbia che tipo di grano è. Tu lo puoi vedere sulla pianta, ma dalla granella è difficile che lo vedi. Lo potrai vedere dagli olive, però è un problema. Allora, in questo caso è sicuro che con il divieto della produzione parallela questo problema non si pone. Quindi dicevo, dal punto di vista delle registrazioni, poi è importante andare a verificare, ok, io tu non devi usare alcun mezzo tecnico, quando parli di mezzi tecnici intendo fertilizzanti, si, arrivo alla prossima slide, fertilizzanti, concimi, no, fertilizzanti, concimi e soprattutto concimi organici e insetticidi. Se un'azienda è mista, tu avrai sicuramente il tuo magazzino in carico dei prodotti non ammessi. Poi è difficile andare a verificare se li hai utilizzati sul prodotto, sulla cultura biologica o sulla cultura convenzionale. È difficile, ma lo devi dimostrare se hai questa azienda mista. Allora uno mi direbbe, va bene, ma qual è il problema? Io alla fine del ciclo culturale faccio un prelievo, perché noi facciamo dei prelievi per fare degli analisi e verifico. Se trovo il residuo di quel principio attivo non è biologico, se lo trovo è biologico o viceversa. Ma non è quella, la prerogativa del bio non è quella che il prodotto finale deve essere privo di residui. Non è quello il concetto del biologico. Quello è prodotto a residuo zero, è un'altra certificazione. Il concetto del bio è che durante il processo culturale tu devi adottare i metodi di credito biologico. Quindi non è che tu mi fai un trattamento alla fioritura di un certo frutteto, faccio il trattamento, è sicuro che quando lo andrò a raccogliere il frutto non c'è neanche, non troverò nessun residuo. Ma non è quello il concetto. Tu il trattamento non lo devi fare, chimico, non lo devi fare. Quindi non è l'analisi finale che dice se un prodotto è bio o non è bio, ma è il processo. Tanto è vero che la certificazione, mi pare che si chiama ancora adesso, quando si fa questa richiesta, si parla di notifica di attività all'applicazione dei metodi di credito biologico. Quindi tu ti stai certificando, ti stai soggettando, non per avere il prodotto biologico finale, ma ti stai certificando per adottare il metodo. Quindi dal momento della semina al momento della raccolta. Dalla messa di mora della pianta al momento della raccolta. Quindi a me non interessa il prodotto finale, altrimenti quello è il residuo zero. Lo fa la plasmon, la plasmon fa residuo zero per i bambini, sa che la pesca che deve produrre il succo di frutta non deve avere residui. Ed è giusto. Ma fanno tanti di quei trattamenti. Prima, nel rispetto magari di altre certificazioni, ma non si parla di biologico. Chiaro? Quindi è un concetto completamente diverso. Ed è duro farglielo capire. Perché? Agli agricoltori. Perché il paradosso è che quando noi facciamo i controlli e dobbiamo fare questi prelievi, i prelievi molte volte, ed è facile capire, non lo facciamo sul prodotto finale. Anche perché non ne vale la pena. Con quello che vuole la grande distribuzione, con il consumatore, eccetera, il prodotto prima di entrare nella grande distribuzione viene analizzato da loro. Quindi se trovano un residuo non entra neanche. Quindi non è quello il concetto. E qui non c'è bisogno di andare a fare sempre il prelievo, parlo dall'azienda agricola al prodotto finale. Noi il prelievo lo facciamo durante la coltivazione. Allora succede, ed è capitato, che troviamo dei residui. E l'agricoltore ti dice, vabbè, ma sull'uva non c'è residuo. No, tu non ti sei certificato per il prodotto finale, ti sei certificato per il metodo. È il metodo che noi certifichiamo, non il prodotto finale. E quindi c'è questo contenzioso, che ovviamente poi passa i guai il produttore, perché pensa di fare il furbo, perché dice, vabbè, io faccio il prodotto finale a residuo zero, non pensa che vada a prendere la foglia. E no, noi ne andiamo a prendere proprio la foglia. Anche perché, dovete capire, che questo è giusto un po' parli, mentre il frutto ha una sua vita, diciamo che, essendo vitale il frutto, quindi l'accrescimento, degrada tutti i residui attivi. I residui dei prodotti chimici li degrada, è come se li metabolizzasse, e quindi puoi trovare il non residuo. Invece la parte vegetativa, che sono le foglie, che possono essere i tralci, o lo stesso terreno, non li degrada facilmente. Li degrada con molto, molto più tempo. Quindi che cosa può accadere? E accade facilmente. Che se io vado a fare un analisi, un predievo, sullo stesso albero, prendo la foglia e prendo le ciliegie, per dire, sulle ciliegie posso non trovare residuo e sulla foglia sì. Allora, dal punto di vista commerciale, quelle ciliegie possono essere vendute, ma non come bio, da un punto di vista, diciamo, proprio legislativo, può essere. Però noi, per il fatto che abbiamo trovato il residuo sulla foglia, quel prodotto non lo puoi commercializzare come bio, pur non avendo residui. Chiaro. Quindi anche il concetto di controllo è completamente diverso rispetto a quello che normalmente viene fatto dalle autorità competenti, che può essere la dogana, può essere la repressione frodi, nas, eccetera. Loro fanno i prelievi perché devono garantire il consumatore, in quanto autorità competente, sul prodotto che va sul mercato. Chiaro. Non vanno a certificare il metodo. Il metodo lo certifichiamo noi. Chiaro. Quindi anche il concetto di controllo è completamente diverso. I periodi di controllo sono completamente diversi. Se le autorità competenti vanno a controllare il prodotto mentre lo stai raccogliendo, noi lo andiamo a controllare mentre lo stai seminando. Perché dico seminare? Perché, ripeto, se devi applicare il metodo, lo devi applicare nella sua interezza. Quindi, e qui è un passo molto particolare, che anche il seme che tu vuoi utilizzare, o il portainnesto, sapete cosa è il portainnesto? È quella parte della pianta che sta nel terreno. Chiaro? Che qui non è commestibile. Sulla quale viene messo, diciamo, il nesto, che è la parte che deve produrre, che poi tra due anni produrrà il frutto. Anche quello che va nel terreno deve essere biologico, cioè deve provenire da produzione biologica. Quindi io ti sto controllando su un'applicazione, su un metodo, tre anni prima di quando tu andrai a produrre il ciliegio, la mele, quello che è. Quindi, come vedete, è un controllo che è nel lungo periodo, molto più incisivo rispetto a un controllo, come ho detto all'inizio del mio intervento, a campione, come viene applicato per la stragrande maggioranza delle volte per i controlli sul convenzionale. Allora, e qui apro e chiudo una parentesi, Vox Populi dicono sempre «Ah, abbiamo visto sul giornale che è stato beccato un prodotto biologico che abbia dei residui». Allora noi diciamo «Ben venga che venga fatto questo controllo e ben venga che è venuto fuori questo problema». Però diciamo, mentre sul biologico il controllo viene fatto a tappeto e quindi quando tu fai il prelievo e è sicuro ne hai trovato uno, su cento ne hai trovato uno, perché cento sono i controlli e ne hai trovato uno. Sul convenzionale la produzione, diciamo potenzialmente, è diecimila, il controllo è uno. Quindi tu nel convenzionale la proporzione di quello che tu vai a controllare rispetto a quello che viene prodotto è imparagonabile rispetto al biologico. Quindi quando uno si trova un prodotto non conforme nel convenzionale, quello è esponenziale, cioè devi considerare mille volte superiore il danno o il pericolo che tu hai rilevato con un prelievo. Nel biologico no, il rapporto è uno a uno. Significa che hai trovato quel campione non conforme e quello è basta. Gli altri 99 sono sicuri. Invece nel convenzionale no. Nel convenzionale controlli un'azienda viene controllata, parlo delle aziende di trasformazione, caseifici, viene controllata una volta ogni 6, 7, 8 anni. Immaginate in questi 8 anni chi lo controlla? Nessuno. Non lo controlla nessuno. Evidentemente questo porta dei problemi, perché evidentemente i controlli hanno un costo. Mentre l'autorità competente, il controllo fa costo zero, perché lo deve fare in maniera campionaria, chiaro, a noi no. Il controllo, siccome è sistematico, comporta dei costi. E quindi evidentemente questo per il produttore dice non solo devo pagare, ma addirittura mi venite pure a trovare quello che altri non hanno trovato. Così va a finire. Quindi il nostro rapporto con i produttori agricoli e le aziende di trasformazione è un rapporto, diciamo, non sempre cordiale, tra virgolette, anche se per quanto mi riguarda e la mia organizzazione siamo sempre propensi a dare tutte le migliori direttive e non fare i carabinieri. Perché fare i carabinieri è molto semplice. Uno va là senza discutere, eccetera. Però quando è necessario glielo facciamo capire. Anche perché nel momento in cui viene trovato un prodotto non conforme, si apre tutto un sistema di valutazione, di azione correttiva, di azione correttiva e trattamento da non conformità, tutta documentata. perché ho dimenticato di dire una cosa importantissima. Qui stiamo nel rispetto, stiamo pressionando i controlli nel rispetto del regolamento. Significa che se viene beccato qualcuno ad non rispettare il regolamento ha tre grossi problemi. Innanzitutto economico, il prodotto non viene certificato. Un problema etico, quell'azienda viene messa all'indice e terzo c'è un problema penale. Quello è il frodo alimentare. Quindi, mentre gli altri due aspetti te li puoi giocare così, il terzo no. Tu vai incontro a un'azione penale. prima per vendita di prodotto per frodo alimentare. Chiedo scusa, hai utilizzato un principio attivo che non dovevi utilizzare e quindi c'è frodo alimentare e poi c'è la frodo comunitaria. Ecco, lo dimenticavo. Perché? Ovviamente, se tutto questo processo molte volte è accompagnato anche da aiuti comunitari, in biologico è stato anche alimentato da questo, evidentemente se tu hai avuto i contributi per poter fare questo biologico e non l'hai fatta, hai un'azione penale anche da quel punto di vista, per frodo e comunitaria. Quindi significa che un'azienda biologica, e io sfido, è veramente un pioniere o è uno che ci tiene, quel personaggio che vuole un'azienda biologica, da non essere controllato mai, da non essere controllato mai, potenzialmente, nel momento in cui fai iscrizione all'albo dei produttori biologici è soggetta a più controlli, da più enti. Vabbè, questo è il paradosso italiano. Organismo di controllo, noi, NAS, repressione ai frodi, nucleo dei carabinieri per frodi comunitari e finanza. Cioè sicuro cinque controlli ce li avrà, da non essere mai controllati, cinque controlli. Quindi questo che significa? Tutti coloro i quali dicono ah il biologico è tutto, uno ha messo in scena, eccetera eccetera, senza capire le ragioni per cui se uno fa biologico, deve capire che chi fa notifiche nell'albo dei produttori biologici in quel momento è soggetto a cinque controlli. Oltre al sesto, il sesto è il controllo dietro segnalazione. Capita spesso e volentieri che uno chiama la procura o può chiamare il carabiniere, chi sia il presidente, e dice guarda, una telefonata anonima oppure messa per iscritto, andate a controllare quell'azienda che sta sofisticando il biologico. Tac, arriva il controllo. Quindi c'è anche questo potenziale. Quindi da cinque a sei controlli sicuri. Chiaro? Quindi tutti quelli che denigrano il biologico o meglio lo accusano, dicono ah vabbè una moda, eccetera eccetera, tenete presente che chi fa questa cosa non solo paga perché deve pagare il controllo, non solo fa degli investimenti e vi ho detto che investimenti deve fare, ma è soggetto anche a dei controlli che tutti i suoi concorrenti che fanno convenzionali non hanno. Quindi questo è un messaggio diciamo non vuole essere polemico, però ovviamente chi sta da questa parte è vero che è un controllore in teoria dovrebbe far emergere diciamo gli aspetti negativi e lo facciamo nel nostro interesse. Però è bene far capire a chi denigra il controllo del biologico o a delle certificazioni in generale che nessuno non gliel'ha prescritto il medico di fare il biologico, nessuno gliel'ha detto, nessuno l'ha obbligato, nel momento in cui tu lo fai devi seguire delle leggi comunitarie o locali o nazionali. Questo praticamente è quello che mi premeva dire sui controlli. Un altro aspetto che è importante è quello della conversione. Qui è un aspetto diciamo molto difficile da far capire alle aziende perché le aziende nel momento in cui si scrivono vogliono fare il controllo del biologico e il giorno dopo vogliono vendere il prodotto bio. Allora, premettendo tutto quello che ho detto che è tutto un concetto agronomico, ambientale, proprio di filosofia del metodo, la normativa dice che comunque, ho messo per iscritto, comunque tu devi fare, puoi fare, produrre, vendere biologico dopo due anni per i seminativi o colture annuali e dopo tre anni quindi dopo il terzo anno puoi vendere dei frutti biologici invece per i seminativi dopo due anni. Questo praticamente può essere anche una limitazione però ho detto dura l'ex ed l'ex non ci possiamo fare niente. Gli americani furbi molto più pragmatici degli europei nella loro normativa NOP questo step l'hanno tolto. Ci hanno detto io posso dire che l'azienda può essere biologica il organic dicono loro anche entro l'anno in cui hanno fatto questa conversione. Diciamo che gli americani sono un po' più così ripeto pragmatici non vogliono carte non vogliono dimostrare niente però ovviamente a monte di questo ci deve essere una dimostrazione che tu puoi già nell'anno in corso vendere prodotto bio perché se tu hai fatto convenzionale da anni e da un punto in bianco tipo un malato ha sempre usato antibiotici un giorno c'è una febbre a 40 gradi dice no non uso più antibiotici è chiaro che avrai dei problemi così è per la pianta se invece questa iniziativa o questa conversione è stata fatta prima con il tempo senza averlo notificato scritto a qualcuno è possibile anche che il terreno sia nelle condizioni o l'ambiente sia nelle condizioni predisponenti per poter aderire seguire il metodo è il caso di aziende magari in prossimità che so di boschi in prossimità di molte aziende zootecniche tipo allevamento brado ce ne sono tantissime in Basilicata dove lì effettivamente non hanno mai fatto non hanno mai visto un prodotto chimico non hanno mai visto un fertilizzante chimico perché avevano le teme a disposizione quindi considerando anche il territorio dove sono ubicate queste aziende è evidente che non ci sono neanche possibilità di contaminazione esterna perché poi nel biologico bisogna considerare non solo i problemi propri ma anche i problemi dei vicini che ti possono causare quindi in quegli ambienti è molto facile che la conversione possa essere attuata tant'è che il regolamento comunitario dice se l'azienda si trova in certe condizioni che è quello che ho detto però burocraticamente ne deve fare richiesta deve chiedere all'organismo di controllo il parere e all'autorità competente che è la regione a dare il benestare quindi anche il regolamento comunitario l'ha previsto però l'ha previsto diciamo per legge invece il NOP cioè il regolamento americano lo dà per scontato diciamo tu lo puoi fare anche nell'ambito di un anno di un anno solo di conversione allora ovviamente io in premessa ho detto l'azienda deve essere autarchica cioè se riesce a risolvere tutto all'interno di diciamo della 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 propria attività ha raggiunto il massimo però questo non sempre è possibile perché le realtà agricole che abbiamo noi non sono specialmente in Puglia e nella zona del sud-est baresi perché perché l'azienda che può fare questo tipo di ragionamento è un'azienda che ha una grossa estensione è isolata a una diversificazione di culture ha soprattutto il bestiame quindi il letame fondamentale per l'agricoltura biologica evidentemente non tutte sono queste queste prerogative hanno le aziende attuali evidentemente la comunità europea ha detto ok per quelle aziende che non riescono ad attuare l'agricoltura biologica all'interno è possibile che ci siano degli input esterni quali sono questi input esterni? sono i concimi ammendanti i prodotti fitosanitari e le materie prime per i mangimi bio ci sono fermati sui primi due vedete ci sono due allegate allegato 1 e allegato 2 che non vi sto a far vedere perché è un elenco praticamente di tutti quei principi attivi di origine naturale di origine vegetale o minerale che possono essere utilizzati per controllare i patogeni o gli insetti chiaro? quindi sono tutti prodotti a bassissimo carenza in tempi di carenza quindi che significa che se fai il trattamento oggi dopo tre giorni ti puoi mangiare il frutto questa è la sostanza ma soprattutto non hanno d'origine chimica quindi non derivano dal petrolio non hanno residui non hanno problemi di residualità anche nel posto raccolto stesso discorso per i concimi ammendanti quando parliamo di concimi ammendanti si parla di concimi e quindi ammendanti di origine organica quindi letame sottoprodotti dell'agroalimentare dell'industria agroalimentare faccio faccio esempio le acque di vegetazione per gli oliveti la la borlanda degli zucrifici la torba sono tutte sostanze di origine organica che possono essere tranquillamente usate come supporto a quelle carenze nutrizionali che in fase di accesso l'azienda ha dichiarato dice io conosco il mio territorio so che ha delle carenze a livello di potassio allora dico per aiutare la pianta ad avere carenze di potassio dico di voler usare le borlande di derivazione degli zuccherifici che sono molto ricche di potassio tu lo dichiari lo dimostri e lo puoi utilizzare evidentemente tutti questi prodotti sono rientrano in questi allegati quindi si tratta di una lista come si dice positiva come si vuol dire cioè tutto quello che è scritto è ammesso tutto quello che non è scritto non è ammesso quindi è molto semplice non dice questo può essere usato questo no dice tutto quello che sta qua dentro può essere usato tutto quello che sta fuori non può essere utilizzato chiaro? evidentemente specialmente per i concimi e ammendani non tutti sono di origine aziendale il letame è di origine aziendale io ho il mio bel allevamento faccio il mio compostaggio faccio maturare il letame e lo vado a spargere per i campi non tutte le aziende hanno il letame non tutte le aziende hanno gli animali evidentemente questi prodotti possono essere diciamo commercialmente confezionati e si hanno le famose polline derivate del sangue sostanze molto ricche di azoto molto proteiche diciamo che derivano sempre da produzioni biologiche o di derivazione biologica questi però vengono confezionati insacchettati e venduti qui c'è un problema c'è un un aspetto da considerare non è che tutte le aziende che fanno fitofertilizzanti possono confezionare questi prodotti metterli e proporli ai produttori no questi devono essere autorizzati al mistero cioè in pratica nel momento in cui si usano questi input ripeto esterni questi devono avere una loro certificazione cioè devono essere prodotti autorizzati dall'autorità competente all'uso in agricoltura biologica quindi voi potrete vedere su questi sacchi specialmente di pollina o di altre sostanze scritto proprio ben evidente autorizzati dal ministero per l'uso in agricoltura biologica se non c'è scritto quello il prodotto non può essere usato perché? è facile di capire perché chiunque si può improvvisare costitutore di ammendanti di concimi prende le porcherie che può trovare in qualsiasi discarica ammendarle fare un piccolo compostaggio metterle dentro e vendere e troveremo di tutto metalli pesanti e via dicendo o antibiotici eccetera evidentemente questo è stato regolamentato ecco perché in origine l'IFOAM quel famoso ente che ha creato diciamo questo discorso dell'organic andava regolarizzato perché tutti si erano inventati questa attività di produttori di fetalizzanti scrivendo bioecologica eccetera con una normativa evidentemente stringente si è voluto dare una regola a questo a questo uso stesso discorso vale per i prodotti fitosanitari cioè tutti i prodotti che voi magari troverete nelle farmacie agricole che sono ammessi per l'agricoltura biologica ci deve essere scritto proprio sulla bottiglia o sul pacchetto o sulla confezione ammessi in agricoltura biologica perché a monte il ministero li ha utilizzati perché significa che all'interno oltre ad avere i principi attivi ripeto non di origine chimica i coadiuvanti cosiddetti che sono i coadiuvanti sono quelle sostanze che permettono al principio attivo di essere efficace un po' come ai farmaci umani cioè se voi prendete un'etichetta o una composizione vedrete che sta scritto 885% di 15% coadiuvanti o eccipienti sono tutte sostanze che servono a far funzionare il principio attivo in agricoltura biologica questi coadiuvanti e questi eccipienti devono essere autorizzati non è che tu prendi un principio attivo magari naturale e gli metti un coadiuvanti chimico non hai fatto niente praticamente quindi in teoria anche quelle devono essere controllate ecco perché tutti i prodotti utilizzati per il controllo di fitofano e cimbiologico devono essere autorizzati dal ministero quindi esiste una banca dati se uno non si accontenta di quello che si è scritto sull'etichetta che può essere pure falsa va nella banca dati del ministero o del SINAB o di altri portali diciamo del campo e vede se questa autorizzazione proprio nella scheda tecnica è presente allora lo può utilizzare il nostro compito di ispettore è anche quello cioè dopo aver dato l'ok all'azienda per dire ok tu puoi azienda in base a quello che mi hai scritto puoi convertirti in biologico perché non hai delle fasce tamponi hai le siepe hai quello e quell'altro eccetera eccetera nel momento in cui lo applici il metodo tutto quello che entra deve essere certificato cioè deve essere autorizzato quindi sta a noi a controllare che tutto quello che l'azienda sta immettendo può essere usato nella caricatura biologica se questo non lo fosse evidentemente l'azienda va incontro a delle cosiddette non conformità quindi delle sanzioni che hanno un loro grado che possono essere da lievi importanti fino all'esclusione dall'azienda quando l'azienda ad esempio è recidiva eccetera eccetera quindi questo è un aspetto molto tecnico però in generale quello che voglio far capire l'organismo di controllo non si occupa solo ripeto dell'affattibilità cioè dell'idoneità dell'azienda non si occupa solo della certificazione finale ma controlla tutto il processo ecco perché dicevo all'inizio noi in azienda quando entriamo presentiamo un piano dei controlli cioè dichiariamo a chi ci controlla che è l'autorità competente quante quante ispezioni deve avere quell'azienda quante devono essere annunciate quante non annunciate e qui è un aspetto importante le non annunciate sono fondamentali perché se io ti dico guarda tra due mesi vengo a farti il controllo la prima cosa che faresti tu poco corretto comincia a pulire tutta l'azienda a togliere tutti i sacchi di prodotti non ammessi cioè metterti a posto fare tutte le registrazioni far trovare il piatto pronto ok questo è possibile e lo devi fare almeno una volta all'anno però quando è non annunciata ti sfido a mettere a posto l'azienda quando io ti avviso nelle 48 ore cioè io ti chiamo ti dico tra 48 ore e non prima delle 48 ore io devo venire in azienda puoi essere bravo quando vuoi ma non riesci non riesci a mettere a posto l'azienda non riesci a fare tutte le registrazioni tali da poter avere la conformità quindi cosa comporta questo cosa significa evidentemente un sistema di controllo certificato tiene conto anche di questo aspetto che nei controlli del convenzionale ripeto non vengono fatti è difficile che l'autorità competente vada senza comunicazione un preavviso proprio difficile a meno che non glielo dice il giudice vai a fare un controllo a sorpresa chiaro quindi badate bene a questo aspetto che detto diciamo a questa platea probabilmente può essere facile da capire però detto a un agricoltore diventa un po' più complicato che gli agricoltori sono sempre gelosi della loro azienda quindi detto questo l'altro aspetto che volevo ecco volevo farvi notare è che ok noi dobbiamo controllare l'azienda dobbiamo vedere se l'azienda è in grado di applicare il metodo biologico però dobbiamo vedere se l'azienda è in grado anche di tutelare l'ambiente in che senso è vero che può usare concimi abbiamo detto è vero che concimi organici ma è anche vero che anche un uso indiscriminato di concimi organici può creare dei problemi al terreno e alle falde uno di questi problemi è l'azoto perché l'azoto è vero che l'azoto minerale è vietato ma l'azoto organico è nell'etame ce n'è di azoto o nella pollina ce n'è di azoto e nel guano ce n'è di azoto se esageriamo nel quantitativo di azoto per ettaro che mettiamo nel terreno abbiamo dei problemi di inquinamento quindi è vero che il prodotto è ammesso ma è anche vero che non è più usato in maniera sproporzionata tale da creare problemi nel terreno nel terreno e soprattutto nelle falde chiaro? quindi noi andiamo anche a controllare che le quantità di sostanza organica che vengono immesse nel terreno siano tale da non superare questo limite un altro aspetto sempre nell'ottica che il biologico è sempre precursore di ogni normativa c'è un prodotto che si può usare facilmente e è auspicabile nel biologico è il cosiddetto rame non so se è un prodotto che viene utilizzato moltissimo in agitubiologico perché è di origine naturale e serve a controllare delle muffe e dei funghi però che succede il rame in se per sé se viene usato in maniera indiscriminata essendo un metallo pesante può residuare nel terreno ma può residuare anche nei prodotti vegetali allora mentre nel convenzionale non c'è nessun limite nell'uso del rame nel biologico c'è un limite cioè noi stiamo agendo da cavia dico io questo termine per testare se un'azienda è in grado di utilizzare la quantità di rame fino a un certo limite sostanzialmente tutte le aziende biologiche è vero che il rame è l'unico prodotto che possono utilizzare ma è anche vero che lo possono utilizzare nei limiti non superiore a 5 kg per ettaro cioè il residuo non deve superare i principi attivi non deve superare i 5 kg per ettaro quindi tenete presente anche il biologico l'azienda biologica ad avere tutti questi controlli deve stare pure a seguire e a valutare questa direttiva europea per quanto riguarda le sementi come vi dicevo prima siccome noi certifichiamo il metodo evidentemente dobbiamo considerare anche come biologico il materiale di propagazione famose sementi le sementi che vengono utilizzate per seminare per seminare insomma qualsiasi cultura le piantine per fare gli ortaggi o i famosi portinnesti che vi dicevo per produrre gli alberi da frutto questi devono essere di origine biologica però c'è un problema che come vi ho detto per i lieviti non sempre le ditte sementiere o i moltiplicatori come si dice di prodotti vegetativi riescono a produrre con metodo biologico questi materiali di propagazione non riescono perché o la richiesta è tantissima o è perché è proprio difficile farlo allora la comunità europea è andata incontro a queste esigenze dicendo ok se non siete in grado non in grado non c'è la possibilità di trovare questo portinnesto questo seme biologico allora si va così si dice si va in deroga cioè si chiede l'autorizzazione in questo caso all'ENSE e al ministero di poter utilizzare queste sementi non biologiche però convenzionali fatto salvo che in Italia e in Europa non se ne trovano quindi l'ENSE che è una banca data dice ok questo seme non si trova biologico e quindi ti autorizza a usarlo convenzionale però con un obbligo che il seme non deve essere trattato o meglio non deve essere conciato cioè anche lo stesso seme o il materiale di propagazione la pianticella o la piantina non deve essere trattato con metodi non ammessi se c'è questa questa documentazione allora va bene altrimenti hai una non conformità come normalmente viene usata e quindi la produzione che proviene da quella semina non può essere certificata bio non può essere certificata e quindi la devi vendere in convenzionale vediamo vabbè i funghi le lasciamo le alghe le lasciamo l'acquacoltura ve l'ho già spiegata i bivalvi lasciamo le perde le visi di controllo ve li ho detto ecco questo è il problema principale che abbiamo con le aziende è quello che vi accennavo prima il tutto deve essere documentato tutto deve essere documentato registrato e allegato al cosiddetto registro di campagna quaderno di campagna è un grosso problema perché lì dovresti cronologicamente dovresti indicare tutte le operazioni culturali che vengano fatte nelle aziende per ciascun terreno e per ciascuna cultura non solo ma dovresti registrare tutti gli acquisti e registrare tutte le vendite quindi è un bel quadernone dove trascrivere tutte queste informazioni questo perché perché per due motivi innanzitutto per sempre il concetto della rintracciabilità perché è vero che noi facciamo uno o due controlli l'anno ma è anche vero che noi possiamo fare esempio un controllo a novembre perché vogliamo controllare l'olivo e magari l'azienda da gennaio a giugno ha prodotto grano quel grano non l'ha visto nessuno chiaramente perché noi andiamo uno o due volte all'anno come faccio io ispettore a dire che quel grano l'hai prodotto con il meteo che è biologica lo posso fare unicamente attraverso le registrazioni quindi vedere cronologicamente il seme che è acquistato se è conforme i mezzi tecnici quindi i concimi se sono stati utilizzati conformemente i tempi di utilizzo le quantità di utilizzo se sono confacenti al metodo quindi è chiaro che se documentalmente questo non c'è l'azienda non può essere certificata evidentemente la mole di informazione che devono stare in questi documenti è notevole e qui ovviamente l'azienda non può essere lasciata sola perché questo è il paradosso l'azienda si trova molte volte a perdere un sacco di tempo sugli aspetti documentali e magari tralasciando il suo mestiere che è quello di andare nella terra qui è necessario che si avvalga dei consulenti di alcuni consulenti che possono sia diciamo aiutarlo nella conduzione proprio nella parte tecnica magari informandoli di alcuni mezzi tecnici o di alcune pratiche che possono essere utili alla sua causa ma anche portare avanti tutta la documentazione perché se la documentazione non c'è l'azienda assolutamente non è certificabile ritorna indietro le aziende convenzionali tutto questo non ce l'hanno quindi se un domani uno vuole andare in un'azienda a dire mi fai vedere che cosa hai prodotto tre anni fa come l'hai prodotto eccetera l'azienda non se lo ricorda mentalmente ma tra l'altro non l'ha manco registrato quindi tutto questo discorso che noi esigiamo nel mondo della certificazione o degli aziende certificati nel convenzionale non esiste e quindi vi invito sempre a fare questo parallelo attenzione quando si parla di paragonare il convenzionale al biologico o quando nel biologico si individuano degli aspetti diciamo non legali la proporzione non è proprio ammissibile non sono paragonabili le due cose questo è quello che mi premeva dirvi su fertilizzanti mi premeva dirvi su sugli aspetti generali io volevo solo se ci sono delle domande potete farle anche adesso io volevo solo farvi vedere alcune slides per capire quando un prodotto si intende biologico e come faccio a capire se è un prodotto biologico semplicemente mostrandovi degli esempi di etichette di etichette questa per esempio non so se avete mai preso o consumato il prodotto biologico che si vede si riesce a vedere questa parte qua dove ci sta il logo riuscite a leggere agricoltura è ora si riesce a leggere si legge dove sta il logo allora questa è una tipica etichetta di un prodotto biologico allora con l'ultimo regolamento è chiaro che ogni prodotto che viene commercializzato come bio ha l'obbligo qualsiasi prodotto sia confezionato che non confezionato cioè venduto sfuso deve riportare la denominazione di origine bio è obbligatorio non solo la denominazione ma deve essere indicato chi è l'operatore e l'operatore è indicato con quel numero 169595 ma deve essere indicato chi è l'organismo di controllo che è definito da quel numero 007 che significa significa che un consumatore da solo solo vedendo questa questa digitura senza considerare tutto l'etichetta in sé per sé capisce più cose innanzitutto che il prodotto IT significa che è l'organismo di controllo chi certifica quell'operatore è Italia quindi IT sta per Italia bio chiaramente la denominazione che è un prodotto bio 007 dice chi è che lo controlla in questo caso 007 è il codice europeo del mio organismo di controllo poi si è scritto il numero dell'operatore vedete quel 16 95 95 16 indica la regione di provenienza dell'operatore quindi in teoria se ci sta a significare Puglia 95 95 è il titolare di questa azienda che si chiama Refood accanto invece la cosa la novità che con l'ultimo regolamento si è voluto mettere in atto far capire al consumatore tra l'altro spero che sarà obbligatorio per tutti i prodotti anche quelli convenzionali capire l'origine degli ingredienti allora come vedete lì sta scritto agricoltura UE agricoltura non UE che significa che gli ingredienti di questo prodotto che ora possiamo vedere qual è praticamente sono dei taralli ecco prodotti da forno ingredienti farina di grano corosan camut vino bianco olio extravergine di oliva che significa significa che quei prodotti in parte agricoltura è derivano da produzione europea in parte derivano da produzione non europea qui è facile capirlo qual è il prodotto che non è europeo è il camut il camut è un grano che non viene prodotto in Europa viene solo prodotto in Canada quindi tu azienda sei obbligato a indicare un'etichetta da dove vengono i tuoi ingredienti quindi è un'indicazione di origine che nessun altro prodotto ha tranne le doppie GP nel mercato agroalimentare quindi sei obbligato a metterlo non solo ma se hai la possibilità di utilizzare ingredienti tutti italiani o tutti francesi o tutti puoi scrivere agricoltura Italia quindi che significa tutti gli ingredienti che stanno in quel prodotto sono tutti italiani quindi tutto il discorso di claim dice i prodotti italiani eccetera eccetera è molto più diciamo recepibile basta conoscere come è fatta un'etichetta quindi capite il passo come è stata diciamo una guida la normativa del biologico per quello che sarà ora le nuove norme di etichettatura su questo le lobby possono far poco cioè mentre le lobby sul convenzionale fanno di tutto per evitare di indicare l'origine l'olio extra vergi di olive se è tunisino se è cercano in tutti i modi per stravolgere l'etichetta e far capire al consumatore che il prodotto italiano magari viene solo imbottigliato in Italia parla dell'olio extra vergi di olive in questo caso nel biologico non è ammesso perché sta scritto se sta scritto agricoltura Italia è sicuro che tutte le olive sono italiane proprio sicuro se in un olio biologico parlo dell'olio voi lo prendete diciamo voglio questo è un olio biologico sono sicuro eccetera è sicuro che è biologico però volete essere sicuro se è italiano basta andare a vedere vicino al logo della foglia stilizzata se sta scritto agricoltura UE o agricoltura Italia se sta scritto agricoltura UE anche se sull'etichetta non sta scritto è sicuro che è spagnolo sicuro o greco ma più alto è spagnolo quindi non c'è neanche bisogno che uno lo vada a scrivere andare su indata a vedere è scritto chiaro? quindi questa è una grossa novità del mondo del biologico che è stato recepito anche dal convenzionale tranne la nuova norma sull'etichettatura prevederà anche però non per tutti gli ingredienti di indicare l'origine del paese solo una una considerazione dimmi allora la domanda era sul mercato diciamo se i prodotti bio sono più per il mercato interno diciamo in Italia non è ancora arrivato tanto al consumitore o più per l'estero diciamo sì ottima domanda allora già da questa etichetta puoi capire che questo è un prodotto tipicamente italiano soprattutto pugliese vedendo solo le lingue in cui sono state indicate gli ingredienti si capisce che questo prodotto probabilmente non andrà in Italia perché l'ottanta per cento delle produzioni agricole biologiche che vengono fatte in Italia sia di prodotto materia prima che di prodotto trasformato va all'estero cioè in Italia siamo i primi produttori in Europa e i secondi al mondo dopo l'Australia come superficie ma siamo decimi undicesimi non mi ricordo per consumo quindi è chiaro che grazie al nostro clima grazie a quelle caratteristiche che vi ho detto prima di territorialità biodiversità eccetera eccetera da noi è molto facile cioè molto facile fare biologiche rispetto ad altre zone chiaro però altrettanto non siamo capaci di considerare il prodotto finito come biologico e consularlo come biologico oddio gran parte del nostro territorio si avvale delle proprie produzioni è chiaro che in un territorio dove si produce molto biologiche è anche facile che il prodotto lo trovi in campagna non lo vai a comprare questo è normale e te ne accorgi del consumo del prodotto biologico dove il maggior consumo la maggior richiesta viene fatta nelle grandi città e non nei paesi questo per l'Italia invece all'estero no all'estero no c'è una cultura biologica completamente diversa cioè se uno prova ad andare in Austria o in Germania non trova lo scaffaletto biologico ma trova l'intero supermercato biologico quindi ma questo perché non è che perché il commerciante tedesco vuole essere superiore per cultura no perché probabilmente è il consumatore che glielo chiede glielo chiede il consumatore e quindi è sicuro che la provenienza la destinazione del prodotto è prevalentemente all'estero e nella nostra bilancia commerciale oltre che l'agroalimentare sta tirando la carretta come dicevamo noi rispetto alle altre produzioni il biologico la stirando molto di più e vi posso dire essendo diciamo organismi di controllo quindi valuto i flussi delle aziende che entrano e escono dal biologico in questi momenti di crisi le aziende invece di diminuire stanno aumentando ma non tanto le aziende agricole perché quello ormai lo zoccolo è quello ma le aziende di trasformazione intendo le aziende di trasformazione le aziende che trasformano e producono prodotti diciamo complessi stanno aumentando cioè io ho aumentato del 20-30% prima era 1-2 aziende all'anno che entro ora ogni mese entrano 2-3 aziende ma perché? per due motivi innanzitutto perché c'è richiesta all'estero e quindi questo supera la crisi supera perché che cosa succede? è vero che questo prodotto costa di più in Italia costa di più all'estero non costa di più io che ho fatto un po' di giri nei supermercati diciamo non italiani specialmente uffici tedeschi la differenza dal prodotto biologico non è enorme come in Italia quindi significa che è standardizzato non è proprio eccessiva la differenza specialmente per questo tipo di prodotto sul prodotto fresco sulla verdura probabilmente sì perché c'è una cultura diversa quindi voglio dire loro comprano bio perché bio non perché vogliono fare il consumatore d'elite no è proprio nella loro nella loro cultura evidentemente questo ha cavalcato i venditori italiani hanno cavalcato quest'onda e quindi hanno visto in momento di crisi dove la massa non può comprare tanto si prevede produrre poco e produrre di qualità anche perché il discorso dei consumi e qui è importante questo vale per ciascuna per ciascun bilancio familiare anche nella mia famiglia è così il nucleo familiare non è più formato da 10 persone 6 persone 7 persone come era una volta è formato da 2 persone molte volte anche da una singola persona e massimo 3 con il figlio evidentemente i consumi non c'è bisogno di consumare tanto di approvvigionarsi tanto di pasta di olio eccetera si preferisce comprare poco consumare poco e consumare di qualità ecco l'esplosione del biologico oltre all'aspetto etico di cui uno compra biologico perché eticamente sa cosa sta alle spalle del biologico quindi è un processo diciamo evolutivo Sì La domanda è se adesso stanno esplodando come stava esplicando le aziende che vogliono essere biologiche allora la domanda è quanto porcentaggio più o meno non sono conforme diciamo che dicono che vogliono essere bio ma nei controlli sì allora posso posso dire liberamente questo che ovviamente quando si intravede il business entra gente poco corretta allora mentre prima dieci anni fa quindici anni fa chi faceva biologico prima o meno lo faceva perché ci credeva e vedeva anche ripeto un aspetto etico nel suo discorso quando si è visto che era un trend economicamente conveniente nel biologico sono entrati personaggi poco corretti quindi il numero delle aziende che sono risultate non conformi in proporzione è aumentato proporzionalmente è aumentato cioè come numero è chiaro che è aumentato perché sono aumentate le aziende rispetto a dieci anni fa ma in proporzione sono aumentate allora il prodotto che viene maggiormente falsificato proprio in assoluto per i prodotti biologici sono i cereali i cereali le granelle grano avena eccetera eccetera soprattutto per la produzione di mangimi lì ci sono stati i maggiori scandali perché non tanto nella coltivazione attenzione la fruta non è nella coltivazione non nella perché lì è facile vedere se il metodo l'è applicato o meno con le analisi con le viste non annunciate eccetera eccetera invece la frode viene con la commercializzazione di granelle provenienti da paesi terzi paesi terzi non della comunità europea parlo dell'est Europa evidentemente che è successo qualche traffichino ha fatto entrare del prodotto che non era biologico attraverso documenti perché lì controlli noi non li possiamo fare ci dobbiamo fidare dei controlli all'estero ha fatto entrare il prodotto che era tranquillamente convenzionale poi con un artificio diciamo documentale questi grandi contenitori quasi grandi stoccatori di grano dall'oggi al domani questi silos di migliaia e migliaia di tonnellate di cereali dall'oggi al domani sono diventati bio tieni presente una cosa che la granella in sé per sé non era contaminata è chiaro cioè non è che facendo l'analisi di quel grano trovavi dei residui altrimenti se ne sarebbe accorta la filiera il panificio il mulin se ne sarebbe accorto no è solo una frode di tipo documentale cioè hanno fatto diventare del prodotto biologico che non lo era questo con due danni il danno d'immagine del biologico perché chiaramente tutti diciamo gli utilizzatori di questo grano pastai fornai eccetera eccetera hanno dovuto ritirare dal mercato tutti i loro prodotti perché derivanti da grano non bio quindi un danno d'immagine notevole e l'altro danno è sul prezzo ovviamente del prodotto locale quindi se entra tanto prodotto che non è biologico quindi a costi bassissimi evidentemente il nostro grano che ha un costo più elevato sia perché è di una certa qualità ma soprattutto perché hai seguito tutto questo territorio quindi ha un costo superiore non riesce a vendere e non è remunerativo quindi hai due due danni quindi le frodi chiaramente sono un aumento però vi ripeto sempre sono una minima parte di quello che accade nel convenzionale cioè nel convenzionale non avete l'idea che cosa sta in giro non avete proprio l'idea questo è un problema sì chiaramente politico eccetera ma io parlo anche di aziende diciamo italiane che scrivono di tutto ma è esattamente il contrario di quello che sta dentro finché non non c'è la soffiata è difficile che veni fuori nel biologico può capitare ma vengono fuori quindi quando avete una notizia sentite una notizia di frode io sono più contento significa che i controlli funzionano non è convenzionale è difficile a meno che non c'è una allerta sanitaria come è capitato muca pazza l'altra volta il bacillus eccetera eccetera allora si fa tanta cacciara alla fine poi viene tutto sgonfiato però tenete presente che a monte ce n'è tanto che non viene mai scoperto finché non capita il danno come è capitato a proprio a Monopoli quel caseificio dove hanno trovato dei problemi a livello di latte eccetera che ovviamente poi entrando e entrando e danno si capisce come viene prodotto quella in un'azienda certificata questo non capisce cioè può capitare però è più facile che viene scoperto questo è il discorso un'ultima cosa che è la novità assoluta vedete qui stanno due asterischi prodotto da uve biologiche che fa riferimento al vino allora il vino il vino fino al 2000 e alla vendemmia del 2011 tutto il vino biologico tra virgolette che troverete sul mercato non è indicato come vino biologico ma è indicato come vino proveniente da uve biologiche perché prima del del 2007 2012 non c'era la normativa sul vino significa che il vino era l'unico prodotto agricolo cioè di origine agricola che non era regolamentato che significa che non è il vino in sé per sé che è bio ma è l'uva che è stata coltivata con i metodi biologici è entrata in cantina a prodotto del vino il vino non è bio è l'uva bio però sull'etichetta si poteva scrivere vino da agricoltura biologica da uve da agricoltura biologica dal 2012 no esiste la normativa sul vino biologico quindi dalla vendemmia 2012 in poi tutte le bottiglie che troverete in commercio come biologico troverete vino biologico questo che comporta che tutte le aziende che usano l'ingredientistica se usano vino prima del 2012 devono mettere da uve biologiche se invece usano del vino successivo al 2012 metteranno vino bio chiaramente questo ha stravolto tutto il comparto vitivinicolo e qui chiudo io che sto facendo i controlli nelle cantine effettivamente sto notando come si diceva una volta che il vino si fa anche dall'uva cioè ho visto c'è cantina che non vi dico quanti ingredienti o quanti coadiuanti ha il vino rispetto a qualsiasi di prodotto quando sono andato in cantina da controllore e ho dovuto dire ok da ora le regole sono queste non ho trovato un enologo col sorriso perché praticamente ha stravolto tutta la sua la sua vocazione perché per fare vino c'è tanto c'è tanto da fare ma con molti ingredienti che nel agricolo biologico non è possibile più usare evidentemente quindi tutti quelli che si vantano di fare un vino naturale un vino perfetto con la normativa biologica o segui quelle direttive o non ti puoi freggiare di questa immagine e nel comparto del vino sentirete molto più rispetto agli altri comparti la denigrazione del vino biologico da parte di chi fa vino convenzionale lo sentirete moltissimo perché è molto competitivo perché il vino biologico ha tutto un altro sapore ha proprio tutta un'altra caratteristica perché è privo di tutte quelle sostanze e sono tantissime se vi faccio vedere l'allegato vi faccio vedere che è l'unico allegato del regolamento comunitario che è una lista diciamo positiva e negativa cioè dice cosa si può usare e cosa non si può usare noterete che su 40 ingredienti coadiuvanti 30 non si possono usare significa che nel vino convenzionale usiamo 40 ingredienti che nel biologico è vietato quindi se è vietato nel biologico un motivo ci deve essere significa che si può fare del vino come si deve senza usare quegli ingredienti a cominciare dalla solforosa a cominciare dalla solforosa quindi chi vorrà fare del vino perfetto facendo agricoltura biologica è quasi sicuro che il quantitativo di solforosa che deve mettere nel vino per mantenerlo per chi fa agricoltura biologica è molto più basso perché l'uva ha quelle caratteristiche tale da non creare quelle fermentazioni negative che con la solforosa si tende ad abbassare quindi questo è un aspetto fondamentale tanto è vero che in America per poter esportare del vino in America vino biologico in America deve essere privo di solforoso privo di solforoso e questo ha creato un sacco di danni alle fantomagiche alle grosse aziende vinicole italiane perché esportavano in America più non posso perché evidentemente se entra del prodotto come si deve biologico che si può fare a un vino biologico due o tre anni vedrete che saremo alla pari del convenzionale senza solforosa che per gli americani è fondamentale non avere vino con bassa solforosa evidentemente avranno un grosso problema a consumare quell'altro vino è chiaro dobbiamo migliorare l'aspetto anche enologico per avere un vino di eccellenza però piano piano ci siamo arrivati purtroppo ci sono dei problemi a livello diciamo anche politico comunitario per tarpare le ali al vino biologico vedi la solforosa perché la solforosa fosse per l'Italia e la Spagna non l'avremmo usata per nulla perché si può usare solo un piccolo quantitativo si può usare se fosse per l'Italia la Spagna e la Grecia si potrebbe fare benissimo del vino biologico senza solforosa però a livello comunitario alcuni paesi hanno messo il veto Germania Lussemburgo e Slovacchia cioè tre paesi che di vino non sanno mai che cos'è hanno messo il veto e hanno preteso che ci fosse la possibilità di utilizzare la solforosa perché perché i vini che fanno loro senza solforosa non lo farebbero mai perché l'uva che hanno non è quella nostra non ha quelle caratterie quindi sono costretti a mettere la solforosa non solo loro stoccano un sacco di prodotto nostro mosto lo stoccano là lo lasciano e poi lo imbottigliano se lì non gli metti la solforosa quel mosto praticamente poi va male quindi sono costretti a mettere la solforosa e se vogliono vendere del vino biologico perché il mercato è quello tedesco eccetera eccetera e se tu non gli metti la solforosa sono costretti a prendere solo del vino nostro e non del vino loro e qui hanno fatto quella stratagema di mettere questo piccolo piccolo cioè in un certo quantità di solforosa che secondo ripeto Spagna Italia e Grecia si poteva non mettere la Francia come al solito sta sempre con un piede e una scalpa quando vuole essa è mediterranea quando non vuole è continentale in questo caso ha detto vabbè accettiamo la solforosa questo è il senso quindi come vedete il biologico diventa da stimolo per tutte le altre produzioni perché si dimostra che è possibile abbattere qualsiasi input che può essere esterno che può essere all'azienda agricola o anche nelle cantine nei casifici o in altri in altri in altri settori c'è qualche domanda la rivolgo a lei quando si la rivolgo a lei perché lei adesso insomma è l'esponente massimo dell'argomento bio e la domanda è la seguente come il biologico si pone davanti a due questioni la prima questione è la lunghezza la lunghezza della filiera anche se comunque l'aspetto bio come le ha detto si focalizza sul processo però dato che la questione del bio è comunque contestualizzata nel macro tema sostenibilità quindi vorrei sapere come si pone davanti a lunghezza di filiera l'altro punto che adesso mi sfugge a geolocalizzazione degli attori della filiera e quindi insomma una serie di argomenti che si rivolgono alla sostenibilità ambientale e anche economica bella domanda perché diciamo le risposte possono essere due e possono essere anche contrastanti l'uno all'altro allora se prendete per buono quello che avevo detto io all'inizio cioè che la filiera bio più corta è meglio è l'azienda deve essere autarchica evidentemente è il massimo tant'è vero che c'è un diciamo una branca del biologico che è la biodinamica dove effettivamente tutto avviene in azienda con aspetti filosofici olistici eccetera e apporta dei risultati tant'è vero che molti si stanno convertendo anche nella biodinamica se lo vediamo da questa ottica evidentemente è così più corta la filiera è più rispetti quei principi etici ambientali eccetera eccetera se invece lo vedi dal punto di vista economico non è più così perché perché come ti ho detto prima i maggiori consumatori e utilizzatori di prodotti biologici non stanno dove si produce il biologico ma dove non si può produrre il biologico che sono i paesi del nord quindi se da un lato vuoi dire al tedesco senti tu l'uva biologica te la scordi perché se vuoi te la devi venire a consumare qua da un punto di vista egoistico turistico va bene ma così tu vai a limitare la possibilità a un tedesco di comprare dell'uva biologica o dell'olio extra virgin di oliva del salento del gargano che è eccellente biologico lo limiti perché comunque lo devi trasportare lì se parliamo di comunicazione di trasporti e quindi dal punto di vista economico non può essere una limitazione tieni presente quello che ti ho detto per i mercati extra europei Stati Uniti e Giappone che sono i maggiori utilizzatori extra europei del biologico le proporzioni l'un per cento dei due per cento no il cinque per cento dei consumatori usa usano consumano biologico ma il cinque per cento su trecento quattrocento milioni chiaramente per noi italiani significa fare solo biologico se dobbiamo soddisfare le loro esigenze quindi da questo punto di vista economicamente non possiamo dire no filiera corta tutto chilometro zero questo non va bene e ti dirò di più ora c'è un altro mercato emergente che mi sono medicato perché non ho avuto tempo di presentare la slice ci sta un altro mercato emergente molto più grande degli Stati Uniti molto più emergente che il Brasile il Brasile ora come gli Stati Uniti come il Giappone si è fatto una propria legislazione biologica perché esportavamo tanto in Brasile e ora si è fatta una propria legislazione significa che ha capito che stava entrando tanto prodotto biologico nel proprio mercato che poteva non tutelare i prodotti locali e quindi si è fatta una sua legislazione e quindi tutte le aziende che vogliono esportare in Brasile loro devono seguire le regole del Brasile ma stiamo parlando di Brasile il massimo il massimo paese della biodiversità della possibilità ma purtroppo in Brasile non riescono a fare prodotti biologici come li facciamo in Europa e come li facciamo in Italia non c'è verso non c'è verso l'Australia è il paese più biologico tra virgoletti in ettari che sta del mondo ma non riesce a trasformare perché i prodotti che riesce a fare in biologico sono i prodotti per fare mangimi ma non riesce a fare olio non riesce a fare formaggio non riesce a fare vino non riesce a fare lo riusciamo a fare solo noi quindi alla tua domanda se vuoi vedere l'aspetto etico è giusto che i figli alla corta venissero qua a comprare i prodotti se lo vuoi vedere da un visto economico non dare la possibilità ad altri di usare i nostri prodotti tieni presente che sono veicola anche di conoscenza del territorio quando arriva una bottiglia di olio a Taiwan e ne stiamo vendendo tantissimo di olio extraverso di oliva a Taiwan che non sanno che cosa è l'oliva vedono Puglia vedono Italia capiscono dove si trova ed è un messaggio per farli venire questo è l'aspetto diciamo diciamo negativo se lo ritiene negativo poi uno decide di che morte vuole morire ho avuto la conferma il biologico si occupa solo del processo nell'azienda come metodo grazie grazie